Ok ragazzi oggi ci siamo, è il grande giorno Oggi c'è l'estrazione del giveaway che ha avuto maggior successo nel canale Siete stati tantissimi, siete stati anche molto carini nei commenti Molto originali, siete stati veramente partecipativi Sono felicissimo di come è andato questo giveaway E quindi non vedrò la di fare questa estrazione per un vincitore Ricordate che tanti partecipanti, un solo vincitore Ma non mollate, perché visto il successo di questo giveaway Dal 15 novembre ne farò partire un altro che sarà il giveaway di Natale Dopo quello di Halloween E se vi è piaciuto questo, vi piacerà senz'altro anche l'altro Mettiamo lì il link del video Ok, parto, schiaccio, via! E ecco qua la vincitrice Denise Bierczak Spero di averlo pronunciato bene Denise perché insomma credo si pronunci Bierczak Ed ecco che cosa ti arriverà direttamente a casa Il tuo premio Ok ragazzi, quindi abbiamo una vincitrice Complimenti a tutti quanti per aver partecipato Non vi perdete la collaborazione potteriana che sta per uscire Che uscirà questa sera al video nuovo Non vi perdete l'haul di Lucca E il resoconto con tutto il reportage da Lucca E poi il 15 di novembre il giveaway di Natale Ciao ragazzi